Finalmente, dopo numerose difficoltà e ostacoli, Kemal e Nian riescono a coronare il loro sogno d'amore e a sposarsi, nonostante i subdoli tentativi di Emir di distruggere la loro felicità. Nelle ultime puntate della seconda stagione di Endless Love, la tensione raggiunge il suo apice quando Emir, determinato a separare per sempre la coppia, mette in atto un piano crudele e disperato per eliminare Kemal una volta per tutte. Proprio poco prima della tanto attesa cerimonia, Emir rapisce Kemal e lo rinchiude in una camera iperbarica priva di ossigeno, sperando così di porre fine alla sua vita. La situazione sembra disperata, con Nian e gli amici di Kemal che si lanciano in una frenetica corsa contro il tempo per salvarlo. L'amore e il coraggio di Nian, uniti all'ingegno di chi sta dalla parte della giustizia, riescono infine a sventare il diabolico piano di Emir, liberando Kemal proprio all'ultimo momento. Con il pericolo ormai scongiurato, Kemal e Nian possono finalmente celebrare il loro matrimonio. La cerimonia, carica di emozione e commozione, è una vittoria dell'amore contro l'odio e la malvagità. Circondati da amici e familiari, i due innamorati scambiano le loro promesse, segnando l'inizio di una nuova vita insieme, libera dalle ombre del passato. Questo trionfo non è solo la conclusione di una lunga e difficile battaglia, ma anche l'inizio di un futuro luminoso, pieno di speranza e amore condiviso. Le nozze tra Kemal e Nian sono finalmente giunte, segnando un momento tanto atteso e desiderato da entrambi. Kemal, dopo innumerevoli prove e tribolazioni, riesce a sposare la sua amata Nian in una cerimonia civile intima e suggestiva. La celebrazione si svolge in un ambiente incantevole, in riva al mare, dove la bellezza della natura fa da cornice a questo momento speciale. I due innamorati scambiano i loro voti con i piedi immersi nell'acqua, un simbolo della purezza e della freschezza del loro amore. A testimoniare il loro matrimonio sono presenti Zeir e Ayan, amici fedeli che hanno sostenuto la coppia nelle loro avventure e nelle loro lotte. La scelta di una cerimonia semplice e privata riflette il desiderio di Kemal e Nian di condividere questo momento con le persone più care, lontano dagli intrighi e dai pericoli che hanno minacciato il loro amore. Tuttavia, la felicità del giorno è mitigata dall'assenza di alcune figure importanti. Leila, una figura materna e di grande sostegno per Nian, e Tariq, il fratello di Kemal, non possono essere presenti. Leila è in attesa di processo dopo aver sparato ad Asu per proteggere Nian, dimostrando ancora una volta il suo coraggio e la sua dedizione. Tariq, invece, è incarcerato per l'omicidio di Ozan, un tragico evento che ha segnato profondamente le vite di tutti i protagonisti. Nonostante queste assenze dolorose, la cerimonia si svolge senza intotti. Kemal e Nian riescono finalmente a stringere tra le mani il tanto agognato libretto di matrimonio, un simbolo tangibile del loro amore e della loro determinazione. Il percorso per arrivare a questo punto non è stato facile, specialmente per Kemal, che ha dovuto affrontare numerosi ostacoli e pericoli per proteggere il loro amore. L'emozione del momento è palpabile, con le onde del mare che sussurrano promesse di un futuro migliore. Gli sguardi e i sorrisi dei presenti riflettono la gioia e la speranza di un nuovo inizio. Kemal e Nian, uniti da un amore indissolubile, possono finalmente guardare al futuro con serenità, pronti a costruire insieme una vita piena di felicità e complicità. Il rapimento di Kemal da parte di Emir è stato un colpo di scena drammatico e devastante. Kemal, consapevole della pericolosità e della determinazione di Emir, aveva previsto che qualcosa di terribile potesse accadere il giorno del suo matrimonio. Per questo motivo, aveva allertato i suoi uomini, organizzando una rete di sicurezza intorno a Nian per proteggerla da qualsiasi possibile minaccia. Tuttavia, nonostante tutte le precauzioni, Emir è riuscito a superare le difese di Kemal. Mentre Kemal si trovava nel salone da barbiere del padre, intento a prepararsi per il grande giorno, Emir e i suoi complici hanno messo in atto il loro piano diabolico. Approfittando di un momento di distrazione, hanno narcotizzato Kemal, rendendolo inerme, e lo hanno trasportato in un ospedale abbandonato, un luogo desolato e inquietante che sembrava uscito da un incubo. All'interno dell'ospedale, Emir aveva predisposto tutto per la sua ultima vendetta. In una stanza nascosta si trovava una camera iperbarica, un dispositivo utilizzato normalmente per trattamenti medici ma trasformato da Emir in uno strumento di tortura mortale. L'obiettivo era chiaro, rinchiudere Kemal all'interno e privarlo di ossigeno, condannandolo a una lenta e dolorosa agonia. Kemal, imprigionato e senza possibilità di fuga, sembrava destinato a soccombere al folle piano di Emir. Tuttavia, quando tutto sembrava perduto, è intervenuta Zeynep. Con un coraggio e una determinazione inaspettati, Zeynep ha sfidato Emir, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella di Kemal. Il suo intervento è stato provvidenziale. Con astuzia e rapidità, Zeynep è riuscita a liberare Kemal dalla camera iperbarica, ripristinando il flusso di ossigeno e permettendogli di respirare di nuovo. La tensione e l'angoscia di quei momenti si sono trasformate in un sollievo indescrivibile quando Kemal ha ripreso conoscenza, rendendosi conto di essere stato salvato in Extremis. Grazie al coraggio di Zeynep, Kemal è riuscito a sfuggire alla trappola mortale di Emir. Questo episodio ha rafforzato ancora di più la determinazione di Kemal a non lasciarsi intimidire e a lottare fino in fondo per il suo amore per Nyan. La vicenda ha anche mostrato come, nei momenti più bui, l'aiuto possa arrivare dalle persone più inaspettate, trasformando la disperazione in speranza. Zeynep quindi salva Kemal. Zeynep, preoccupato per la scomparsa di Kemal, ha contattato Zeynep nella speranza che potesse fornire qualche informazione utile. Le ha chiesto se avesse sentito Emir parlare di un piano malvagio che coinvolgeva suo fratello. Zeynep, nonostante il conflitto interiore che provava, ha rivelato a Zeynep di aver sentito Emir menzionare un ospedale abbandonato. Grazie a questa preziosa informazione, Zeynep ha avviato delle indagini approfondite, cercando di localizzare il luogo esatto in cui Kemal poteva essere tenuto prigioniero. Dopo una serie di ricerche frenetiche, sono riusciti a scoprire l'ospedale abbandonato in questione. Il tempo era essenziale e la tensione era palpabile. Approfittando della pausa pranzo della guardia di sicurezza, Zeynep e Zeynep si sono introdotti furtivamente nell'edificio fatiscente. Il loro cuore batteva forte mentre si avvicinavano alla camera iperbarica dove Kemal era stato rinchiuso. Con movimenti rapidi e precisi, sono riusciti a disattivare il dispositivo e a liberare Kemal, che giaceva all'interno, privo di sensi ma ancora vivo. Una volta fuori dalla trappola mortale, Zeynep e Zeynep hanno trasportato Kemal verso la cerimonia nuziale. Nonostante l'urgenza e il pericolo, sapevano quanto fosse importante per Kemal arrivare in tempo. Durante il tragitto, Kemal ha iniziato a riprendersi lentamente, ancora confuso da ciò che era accaduto. Quando finalmente sono giunti alla cerimonia, Zeynep ha rivelato a Kemal la verità. Sai, Kemal è stata tua sorella a salvarti. Kemal, sebbene stordito dagli eventi, ha sentito un profondo senso di gratitudine e affetto verso Zeynep. Tuttavia, la sua preoccupazione per la sicurezza della sorella era palpabile. Sapendo quanto Emir potesse essere vendicativo, ha chiesto a Zeynep di allontanarsi immediatamente. Non poteva sopportare l'idea che Emir potesse rivolgere la sua ira contro di lei. Con il cuore pieno di riconoscenza ma anche di timore, Kemal ha salutato Zeynep, consapevole del sacrificio che aveva fatto per lui. Questo atto di coraggio ha rafforzato ulteriormente i legami familiari, dimostrando che, nonostante le difficoltà e le divisioni, l'amore e la lealtà possono prevalere anche nelle situazioni più disperate. La promessa di Kemal. Kemal è finalmente arrivato nel luogo della cerimonia, accompagnato da Zeyn. Nonostante le prove e le tribolazioni che ha appena affrontato, il suo amore per Nian gli dà la forza di continuare. Solo Ayan e Zeyn sono a conoscenza dell'intero dramma che si è svolto poche ore prima. Zeyn, il padre di Kemal, era stato anch'egli narcotizzato da Emir nel salone da barbiere, e si è svegliato solo in tempo per vedere suo figlio risollevarsi dalle grinfie della morte. Per il bene di Nian, è stato deciso di non rivelarle nulla di quanto accaduto. Gli amici e la famiglia di Kemal hanno voluto assicurarsi che il giorno più bello della sua vita fosse vissuto in completa serenità e gioia. Nian, ignara del pericolo che Kemal ha corso, si prepara con entusiasmo e amore per il momento tanto atteso. Quando Kemal raggiunge l'altare, i suoi occhi incontrano quelli di Nian, colmi di amore e speranza. Con il mare come sfondo e i piedi immersi nell'acqua, la scena sembra uscita da un sogno. La bellezza e la purezza del momento cancellano, anche se solo per un istante, le ombre del passato. Durante lo scambio dei voti, le parole di Kemal sono cariche di significato e determinazione. Noi due insieme fino alla morte, promette con voce ferma e occhi brillanti. Questa promessa non è solo un augurio, ma un impegno solenne, frutto di un amore che ha superato innumerevoli ostacoli e pericoli. È un giuramento di eterna fedeltà, nonostante le avversità che la vita potrebbe ancora riservare. La cerimonia procede con emozione palpabile. I presenti, pur consapevoli delle recenti vicissitudini, mantengono il segreto per proteggere la felicità di Nian. La festa si riempie di sorrisi, abbracci e lacrime di gioia, mentre il sole tramonta lentamente, colorando il cielo di sfumature dorate. Il legame tra Kemal e Nian è ora più forte che mai. La loro unione rappresenta la vittoria dell'amore sulla malvagità e la tenacia su ogni difficoltà. Con la promessa di Kemal, insieme fino alla morte, i due innamorati iniziano un nuovo capitolo della loro vita, pronti a costruire un futuro luminoso e pieno di speranza, consapevoli che insieme possono affrontare qualsiasi cosa.